Sai quanto ci metto a fa ammazzare una persona? Bastano 10.000 euro. Con queste parole Tamara Pisnoli, ex moglie del calciatore Daniele De Rossi, assieme ad un altro degli arrestati, avrebbe minacciato l'imprenditore romano sequestrato e picchiato lo scorso luglio nell'abitazione della donna in zona Eur a Roma. Pisnoli, una delle otto persone arrestate dai carabinieri e ora ai domiciliari, ha negato tutte le accuse. L'imprenditore, 36enne, per alcune ore, sarebbe stato picchiato da quattro uomini e se viziato con un coltello, perché pagasse 200.000 euro relativi ad un prestito usurario. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di usura, estorsione, rapina e lesioni gravissime.